Buongiorno, oggi finalmente vi mostrerò le mod che utilizzo sul Badlion Client, però prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like, così da supportarmi e rendermi più felice. Per avere le mie mod è abbastanza semplice, basta premere R-Shift, andare su questa icona e cliccare questa cartella. Una volta cliccata qui l'icona vi aprirà questa finestra, adesso voi andate in descrizione e scaricate questo file. Una volta scaricato lo andate a mettere qua dentro, si chiama tara.json, questo qui, molto semplice. Una volta fatto ciò qui vi comparirà questa mela con scritto tara, questo sarebbe il profilo delle mod. Lo selezionate ed avrete il mio stesso modpack, le mod sono configurate in questo modo, non sto qua a spiegarvi tutto quanto perché penso che sia abbastanza noioso. Questi sono i settaggi che uso sempre sia nei video che nelle live e adesso direi di andare a giocare, che dite? A che giochiamo? Questo dai che ha già quattro voti. Andiamo, andiamo, andiamo! Perché corrono tutti? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Ti sconfiggo, ti sconfiggo, sì! Sei finito anche tu, sei finito, sei finito, sei finito! GG! Siamo a due kill, non arrivo un altro da dietro. Nooo, come ti permetti di rubarmi la kill? Nooo, dai! Non mi piacciono le persone così, me la pagherai cara, vieni qua! Dove corri? Vieni qua, vieni qua! Guarda, clean up sempre questo, sta solo a clean upare, è assurdo! No, 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 non hai capito niente! No, no, ecco l'abbiamo ucciso, così impari, mamma mia! Nella mischia! Ok, set kill, nooo! Non sono neanche nella top, dai! Stavolta giochiamo a questo, due, uno, via! Qua dobbiamo rubare l'energia, dobbiamo caricarci al massimo. Arrivano tutti arrabbiati questi, no, no, no! Sono full? Sì, sì, sono al 100%, vado a ricaricarmi qua. Pam, pam, pam! Corri, corri, corri! Arrivano, arrivano, ma siamo solo due team! Allora mi conviene, tipo, picchiarli. E uno l'ucciso. Tutti e due l'uccisi, ma sono potentissimo, la mia aura è al massimo. Vieni qua, vieni qua, ti faccio vedere io. Oh, vuole combattermi! Ma non lo sai che io sono fortissimo a Minecraft? No, non lo sapeva. Oh, sono carico, andiamo. Occhio amico, ti difendo io, ti difendo io! No, non prenderai mai l'energia! Infatti non l'ha presa, sono fortissimo. Siamo praticamente a metà. No, no, l'abbiamo superata. Forse vinciamo, forse. Speriamo di sì. Vai, dei comandi a Rill. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo vinto! No! Perché? Dai, no, 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 cos'è successo? Dai! Dai! Ma stavo vincendo! Ma non è giusto! Cos'è questo? Che gioco è? Ah, quello con i biscotti, tipo, dobbiamo tirare giù le persone, però occhio che dà un sacco di knockback quel biscotto. Via, via, via! Dai! Dai! Via! Via, via, via! No, da dietro, no! Via! Sciò! Tutti via! Niente, sono sempre nel vuoto. Allucinante! Sono a 18... Sono a 18 kill! Sì, ho vinto! Non ci posso credere! Mamma mia, potenza incredibile! Guardalo lì, guardalo lì, quanto è fiero il grande Tara. GG, ragazzi, GG. Super GG. Ora dobbiamo fare questo perché prima abbiamo perso. Che gioco è questo? Ma è sempre lo stesso di prima? No, ma ho già vinto! Dai, non serve vincere due volte. Lo so che volete che io vinca ancora. Però, dai! Perché non vanno giù? Andate giù, dai! No, dai! Ma perché? Non sono un pallone. Dai, devo vincere! Me ne manca uno, me ne manca uno. Soltanto uno. Chi sarà? Chi sarà? Sarai tu? Vai giù! Dovrei aver vinto, in teoria. Sì, ho vinto ancora! Mamma mia! Questo sì che è talento, è talento. Ora però dobbiamo giocare a questo perché, ragazzi, dobbiamo vendicarci. Quindi cliccate qua. No, qua non sono bravo. Ed è anche super noioso. No! Uh! Sì, ho vinto! Wow! È incredibile vincere su sta cosa. È impressionante. Avete visto? Non mi ferma nessuno, non mi ferma nessuno. Sono troppo forte. Oh, finalmente giochiamo qua. Dobbiamo vendicarci che prima abbiamo perso. Vieni qua. Ok, vieni anche tu qua. Sì, tutti qua. Tutti da me, tutti da me. Cosa? No! Ehi! Cos'è sta storia? Bah, che roba! Sei finito, sei finito, sei finito! No, ma perché? Non so giocare a questo gioco, dai! Però devo vincere lo stesso, anche se non sono capace, devo vincere in qualche modo. Ciao, ciao! Una kill, una kill, una kill! Sì, Tara ha vinto! Va bene, va bene. Perfetto, così si fa, così. Va benissimo, guardalo lì, il grande Tara. Questa è la skin di quello di Toy Story, non ricordo. Però sì, voi lo sapete, dai, ditemelo. Bene, signori, il video è finito, mi raccomando, lasciate like, è importantissimo. Iscrivetevi al canale e commentate con qualcosa di bello, mi raccomando. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!